Broom, broom! Ce ne andiamo in giro con i mezzi di trasporto e con la nostra personalità. Scegliamo uno di questi cinque mezzi di trasporto e vediamo che carattere abbiamo. L'automobile, la bicicletta, il treno, l'aereo, la nave. Abbiamo scelto l'automobile, bene, siamo una persona sicuramente indipendente, determinata e, ops, orientata al controllo. Le tue capacità di guidare la tua vita sono una parte fondamentale della tua personalità e anche un pochino magari di guidare la vita degli altri. La bicicletta, se hai scelto la bicicletta sei una persona attiva, ecologica, ma soprattutto desiderosa di godere la vita. La tua personalità riflette proprio il desiderio di movimento, ma soprattutto, ricordatelo, di libertà. Il treno, se hai scelto il treno sei un individuo orientato alla connessione, alla stabilità e comunque al viaggio. La tua personalità riflette una prospettiva di lungo termine e una mente aperta, unita a tutto ciò. L'aereo, beh, se hai scelto l'aereo sei sicuramente una persona avventurosa, aperta a nuove esperienze e desiderosa di esplorare il mondo. La tua personalità riflette una mentalità globale e ambiziosa. E ultima, la nave. Se hai scelto la nave sei una persona paziente, tranquilla, ma comunque orientata alla scoperta. La tua personalità riflette una forte capacità di affrontare le sfide con calma e determinazione. Se ti è piaciuto il mini test puoi iscriverti al canale se non l'hai già fatto e cliccare la campanella per avere una mini notifica non invasiva dei prossimi test, delle prossime interviste e dei prossimi video. Un abbraccio!